È un periodo di belle soddisfazioni e di impegno per l'atletica Pietrasanta Versilia. Pochi giorni fa, sotto l'albero di Natale, la notizia è che la finale a bronzo dei campionati di società 2023 si svolgerà al Falcone Borsellino il 10 e l'11 giugno. Poche ore dopo Natale, la classica Coppa di Santo Stefano a Vallecchia, che è pur sempre motivo di prestigio e di orgoglio con le sue 68 edizioni, e parliamo dell'immediato dopoguerra una vita fa. Dunque, dopo tre anni, ultima volta fu nel 2019, torna una corsa che ha mantenuto intatto il suo fascino nel tempo e con un albo d'oro davvero sontuoso. Vi troviamo infatti atleti del calibro di Stefano May, campione europeo dei 10.000 nell'86 e attuale presidente Fidal, e Daniele Meucci, campione europeo di maratona nel 2014, tanto per citarne un paio. E assista alla corsa anche Maurizio Lorenzetti, che a lungo ha detenuto il record con uno strepitoso 18.20. Il clou della giornata, con la partenza alle 10.45 degli atleti senior, da sciropparsi quattro giri di un percorso collinare vario e raccigno per un totale di 6 km e 200 metri. Gara tattica, almeno per tre tornate, con i migliori a guardarsi e a marcarsi stretto, senza che nessuno voglia assumere in modo deciso l'iniziativa. Sono infatti ancora in 5 al suono della campana. Sull'ultimo strappo, nel finale, scatta Emanuel Gergut, della Toscana Atletica Futura, la sua azione irresistibile, e consente al 26enne Fiorentino di guadagnare una manciata di secondi, sufficienti per vincere con merito e a braccia alzate, in 19.40, lontano dal record della corsa che è di 18.16. Raccolti in un fazzoletto lo seguono l'anfan di UPI Giacomo Verona, gruppo polistico Parco Alpiapuane, e Lorenzo Bellinvia, di 19enne del Cuspisa, più distanziati degli altri. In precedenza si erano svolte le altre gare, riservate alle categorie giovanili, e poi quella femminile e maschile over 50, sulla distanza di 4 km e 700 metri.